La Puglia si tinge di rosa, il Giro d'Italia ha infiammato la curiosità di tanti cittadini e sportivi pugliesi nel corso dell'ottavo appuntamento della manifestazione ciclistica nazionale percorsa sulla lunga trattapiana adriatica in direzione nord con partenza da Giovinazzo e l'arrivo a Vieste per una tappa che ha visto dunque un traguardo in salita sul Gargano. Nel mezzo tante città attraversate, Molfetta, Bicelli, Etrani, Barletta, Margherita di Savoia, Zapponeta e così via. A Trani i cittadini hanno salutato il Giro d'Italia con uno striscione in memoria di Marco Pantani, ma tanti sono i messaggi lasciati sull'asfalto dei pugliesi lungo il percorso. Il rosa ha dominato le strade della Puglia per un colpo d'occhio che da sempre affascina sportivi e non. Un barlume di spensieratezza in un momento storico certo non facile, ma dal quale l'Italia prova a resistere ed anche la Puglia, grazie al Giro d'Italia, ha potuto godere di un momento di festa e ritrovo, sempre nel rispetto delle norme sanitarie e seppur durato pochi minuti. La carovana rosa ha visto l'approdo in Puglia venerdì dopo la partenza di Matera e l'arrivo a Brindisi nel corso della settima tappa. dopo la giovinazzo vieste si sposterà in Abruzzo, il suo passaggio ancora una volta ha reso omaggio alla Puglia e alle sue bellezze paesaggistiche ed urbane.